Quasi 6 milioni di litri di vino bianco trevigiano e veneto spacciato per Pino Grigio, Pugliese e IGP. E' questa la frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso che ha indagato due imprenditori con cantine nella marca. L'accusa per i due indagati, sono titolari di imprese vitivinicole della marca trevigiana, sono accusati di frode in commercio e falsità in registri e documenti. Per aver posto in vendita appunto vino recante falsamente etichettatura di IGP Puglia, Pino Grigio, quando in realtà questo tipo di vino non poteva freggiarsi di questa indicazione. L'operazione non a caso è stata chiamata Pinocchio, visto come sia trevigiani che pugliesi abbiano dal 2012 per quattro anni fatto passare bianco di mediocre qualità come Pino Grigio Pugliese superiore. Questo vino veniva dichiarato tramite compiacenti cantine pugliesi, derivava da compiacenti cantine pugliesi, veniva dichiarato come falsamente prodotto su vitigni che in realtà poi gli accertamenti documentali, gli esami cartografici e le riprese satellitari hanno dimostrato non esistere. Insomma il vino c'era, ma non le vigne, inevitabile quindi che i conti non tornassero. Così sulle tavole del consumatore arrivava vino che in realtà era di origine e produzione non certa. Il vino partiva dalla marca e arrivava in Puglia, poi con bolle contraffate e etichette fasulle diventava magicamente pregiato. E tramite questo sistema di etichettatura in cui veniva riportata l'indicazione geografica protetta di Pinocchio quando in realtà si trattava di varietà di uva, bacca bianca che sicuramente non poteva freggiarsi di questa indicazione geografica protetta. Indagini tutt'altro che chiuse, considerata la provenienza del vino bianco che fa quanto meno pensare che della glera finisca in Puglia per un falso Pinot piuttosto che diventare del buon prosecco trevigiano.